Grazie a tutti. Si è articolata con una santa messa e con l'inaugurazione di una mostra a cura del MUVA allestita al circolo culturale Latrio in via San Biagio. Ne parliamo con il collezionista Nino Vinci Guerra, buongiorno Nino e grazie per aver accettato questo invito. E' con Guido Cavalla, sindaco di Villa Franca d'Asti dove Monsignor Cavalla era originario e che tra l'altro è parente di Monsignor Cavalla. Buongiorno sindaco, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito. Prima di parlare con il sindaco, Nino, perché e come nasce questa idea di ricordare Monsignor Cavalla anche con una mostra fotografica? Sì, nasce dall'idea l'ha avuta Don Vincenzo di Lecce, l'ha voluta fortemente, espressamente Don Vincenzo per ricordare questo personaggio immenso, un gigante davvero della chiesa, della chiesa materana, un personaggio la cui forza era la carità. Per cui quando Don Vincenzo mi ha proposto di organizzare, se si poteva organizzare anche una mostra fotografica, oltre alla commemorazione in chiesa, che è stata fra l'altro suggestiva, toccante, commovente, non ho esitato e quindi ho cercato di procurare più materiale possibile per poter gratificare la presenza di questo presule materano che ancora oggi viene venerato dalla popolazione. Anche gente che non l'ha conosciuto, diciamo, ha avuto, gli è stata tramandata questa figura immensa, questa figura grande, lo si vedeva addirittura nei sassi, si sa per testimonianze dirette che chiunque andasse a bussare alla porta dell'Arcimescovado non se tornava mai a mani vuote. Per cui, diciamo, è stata un'esperienza, una proposta e un'esperienza emozionante, oltre che commovente. Ecco, le tue fotografie che cosa raccontano? Scene di vita quotidiana di Monsignor Cavalla, anche, oppure di momenti nelle chiese, nelle piazze, momenti di celebrazione. Sì, raccolgono un po' quello che è stato il percorso della vita di questo Arcivescovo, dai primi passi mossi in seminario, quindi da ragazzino, alla venuta a Matera, quest'ingresso a Matera. Ci sono poi foto che riguardano momenti di vita sia comunitaria, quindi vita ecclesiale, momenti in chiesa, benedizioni ed altro, come ci sono anche momenti, come dire, privati. Magari c'è la fotografia messa a disposizione da Domenico Bennardi, che erano del nonno, le fotografie di Monsignor Cavalla dove, in riva al mare, chiaramente, sono momenti privati, particolari, che però fanno, come dire, denotano, evidenziano la personalità di quest'uomo, che alla fine Gondi era un uomo, era una persona, un comune mortale, che però riusciva ad avere una santità vera e propria. Sindaco, abbiamo detto che lei è il primo cittadino di Villa Franca d'Assi, dove Monsignor Cavalla è nato e tra l'altro è anche parente di Monsignor Cavalla. Innanzitutto, benvenuto a Matera e che ricordo c'è a Villa Franca d'Assi di Monsignor Cavalla? Allora, innanzitutto io ringrazio il signor Vinciguerra e ringrazio Don Vincenzo per aver ricevuto l'invito di partecipare a questa ricorrenza, a questo ricordo per Monsignor Vincenzo Cavalla, perché sia come sindaco, quindi in forma istituzionale e anche come in via personale, in quanto anch'io mi chiamo appunto Cavalla e sono parente di Monsignor Vincenzo Cavalla. Il ricordo a Villa Franca si ricorda la famiglia dei fratelli Cavalla, in modo particolare, perché erano quattro fratelli che tutti e quattro hanno avuto una vita dedicata, una vita ecclesiastica, quindi tutti e quattro sacerdoti, di cui due fratelli divennero vescovo, Monsignor Vincenzo, vescovo appunto di Matera e a Cerenza e Monsignor Carlo che era vescovo di Casale. È una famiglia e sono personaggi molto ricordati, ancora presenti, si ricorda i loro ritorni a Villa Franca in cui tutti noi li attorniavamo per sentire, io ero piccolo veramente, ho i ricordi di mio papà che tutte le volte che tornavano su raccontavano di questa vita, di questi incontri qua a Matera, di queste esperienze, ma senza significare i momenti specifici e quant'altro. Quindi noi li ricordiamo come sacerdoti che si dedicavano alla popolazione, alla gente, alla gente normale. Nino, Monsignor Cavallo è stato definito il profeta della gioia? Beh sì, ecco, era una persona che trasmetteva serenità, trasmetteva gioia, trasmetteva allegria. Lui diceva che bisognava essere contenti, allegri, bisognava sorridere, bisognava sentirsi dentro felici. Quindi è stato capace di trasmettere. In un momento particolare della vita della nostra città c'è stato il trapasso in pratica dai sassi ai nuovi rioni. Ci sono stati momenti difficoltosi perché Matera era una delle tante città povere del sud, subito dopo la seconda guerra mondiale. Per cui in quel momento evidentemente ci voleva questo personaggio per dare impulso, per dare forza alla vita materana. E' stato un personaggio che ha... Ebbe anche un ruolo per la realizzazione, la formulazione della legge sul risanamento dei sassi. Sì, infatti lui favoriva e sollecitava, favoriva gli incontri fra i politici e sollecitava proprio in prima persona, scrivendo al governo, quindi magari bypassando il protocollo, scrivendo direttamente al governo affinché ci fosse una sollecita soluzione per l'evacuazione dei sassi. La gente, sappiamo, viveva in condizioni... In estremo degrado. Sì. Ed era un uomo anche molto colto, due lauree, conosceva diverse lingue. Era laureato in filosofia italiana e filosofia, in letteratura sacra, sacre scritture. e conosceva, era poliglotta, conosceva anche lingue antiche, vecchie, che ormai erano fuori uso in pratica, tipo l'aramaico. Ecco, era... Aveva favorito anche il... Aveva preso di petto la situazione della Sita, che sarebbe stata trasferita da Matera. Si interpose proprio in prima persona, lui partecipò e la Sita rimase a Matera. Ma poi, oltre di tutto, era una persona che davvero, io sentendo, ascoltando le testimonianze di gente che l'ha vissuto, l'ha conosciuto, era una persona che portava le maglie logo reusate, le maglie interne, perché quelle nuove, che acquistavano le suore, che curavano l'arcivescovado, quasi di nascosto le passava a gente meno ambiente. Tantissimi e bellissimi ricordi, sindaco Cavalla. Tra l'altro Matera, ricordiamo, signor Cavalla, a cui è stata dedicata la fondazione Antiusura. Non so se era al corrente, quindi è una figura che non è affatto dimenticata nella comunità materale. Assolutamente, proprio quello che mi ha profondamente colpito, e ne sono veramente grato a tutti i materesi, e questo ricordo, dopo 60 anni, di Monsignor Vincenzo Cavalla, come se fosse ieri, quindi ha lasciato effettivamente il segno in tantissime, tantissime persone, e questo non può che riempirmi di gioia, perché a vedere che dopo 60 anni è così presente la sua azione, la sua persona, la sua bontà e la sua generosità, effettivamente non può che gratificarmi per questo legame stretto che ancora oggi esiste in molti, molti abitanti qua che l'hanno conosciuto, che hanno avuto modo di conoscere il suo comportamento, il suo modo di fare e di vivere. Le sue opere e le sue azioni. Nino, è possibile visitare la mostra al Circolo Culturale Latrio in via San Biagio? Fino a quando? Quali sono i domani? Fino a domenica sera. Fino a domenica sera? Domenica, anche alle 22 siamo ancora aperti, anche perché vedo che c'è, purtroppo il periodo è breve, perché ci sono altre iniziative. Però devo dire insomma che con questa mostra e anche con altre esposizioni, mettendo a disposizione tu come altri collezionisti delle fotografie storiche state facendo davvero un lavoro importantissimo per la comunità di riscoperta di antiche tradizioni, di figure indimenticate come Monsignor Cavalla, un lavoro assolutamente fondamentale per la città di Matera. Beh, noi cerchiamo di dare anche noi un piccolo tassello che possa servire a ricordare e a programmare il futuro, perché io credo che senza il passato non c'è presente ma non c'è soprattutto futuro. Per cui mettere a disposizione, condividere questo materiale che abbiamo è un arricchimento reciproco per chi espone e per chi visita queste esposizioni qua. Per cui anche in questo contesto, questo più particolare di questo personaggio storico, ho visto che c'è stata una partecipazione non indifferente, quindi la mostra è stata sia il giorno dell'inaugurazione, giovedì sera, è un giorno feriale ed era pienissima, sia questi altri giorni che è stata aperta, è stata visitata da numerose persone, persone che si sono soffermate addirittura non per due minuti, per dieci minuti, ma c'è stato chi si è soffermato per oltre mezz'ora a guardare le foto, a ricordare, magari poi è tornato con altra gente, cerchiamo di dare anche noi un impulso a questa città che tutto sommato ha bisogno, anche perché siamo proiettati verso la lotta per diventare capitale europeo della cultura, per cui chiedo anche al Sindaco se ci supporta, ne abbiamo bisogno. È sinonimo di supporto della città di Matera. In chiusura, Sindaco, un commento veloce sulla città di Matera che l'ha ospitato in questi giorni, anche se si è trattato di un soggiorno breve. Assolutamente breve, io ero stato a Matera circa quasi 40 anni fa, nel 74-75, per una visita molto breve e in questi due giorni ho avuto modo di approfondire, conoscere un po' meglio Matera. È un patrimonio di cultura e di storia, devo dire, la città probabilmente più vecchia, tra le città più vecchie al mondo come testimonianze di vita, di abitazioni civili e quindi ne sono convinto tutte le carte in regola per non concorrere, ma per vincere questa qualificazione in quanto quale città della cultura. Io ho trovato una disponibilità, un'accoglienza eccezionale e appunto con il dottor Nino Vinci Guerra e anche con Don Vincenzo abbiamo ipotizzato anche la possibilità o l'eventualità, io ne sarei felice, di poter portare questa documentazione, questa mostra fotografica anche a Villa Franca d'Asti. L'inizio di un gemellaggio tra Villa Franca d'Asti e Matera, perché no? Noi sindaco l'aspettiamo per un altro soggiorno a Matera, sarà sicuramente benvenuto. Grazie al sindaco di Villa Franca d'Asti, Guido Cavalla, grazie al collezionista Nino Vinci Guerra. Ringraziamo naturalmente il MUV, il Museo Virtuale della Memoria Collettiva, e Don Vincenzo Di Lecce che ha fortemente voluto questa giornata di commemorazione. Questa mostra che vi ricordo sarà visitabile fino a domenica al Circolo Culturale Latrio in Via San Biagio. Volevo dire anche che abbiamo avuto il favore dell'Arcivescovo Ligorio, è stato felicissimo di questa iniziativa e ci ha supportato. E ha presieduto la messa. Ha presieduto la messa con il ex Vescovo di Acerenza, oltretutto, quindi è stato un successore di Cavalla con Don Michele Scandiffio. Bene, grazie Nino, vi ricordo la mostra al Circolo Latrio dedicata al Profeta della Gioia, indimenticato Arcivescovo di Matera, Monsignor Vincenzo Cavalla. Grazie ancora ai miei ospiti, in linea alla regia.